Abbiamo un periodo buono perché comunque nella provincia di Arezzo e anche nel comune di Arezzo i numeri sono veramente bassi, sporadici direi. E questo è un segno importante perché vuol dire che questo virus potrebbe aver avuto un cambiamento di tipo epidemiologico. Non sappiamo se le temperature piuttosto che le attenzioni, ma tutto insieme ha portato a una situazione di numeri di casi assolutamente ridotta rispetto a qualche settimana fa. Il virus rallenta anche nell'aretino, anzi sembra frenare. Nella giornata di lunedì i fatti finalmente si è arrivati a zero contagi, obiettivo tante volte sfiorato nelle ultime settimane ma che ancora non era mai stato raggiunto. Un dato incoraggiante ma che comunque non deve fare, abbassare la guardia a preoccupare, infatti resta una possibile nuova ondata. Diciamo che la fase 2 presuppone anche questo, quindi le attenzioni a una possibile ripartenza dell'epidemia. Io come ho sempre fatto segnalerò e cercherò di stimolare la popolazione anche comunque a eseguire le vaccinazioni per le altre infezioni. Quindi andando diciamo verso l'autunno e l'inverno noi proporremo alla gran parte della popolazione di fare la vaccinazione comunque per l'influenza, perlomeno per evitare quel tipo di infezione. Una speranza per i pazienti covid più gravi adesso potrebbe arrivare anche ad Arezzo dalla terapia del plasma. Noi siamo fiduciosi, la nostra azienda partecipa al protocollo nazionale che ha come capofila l'azienda ospedaliera pisana e quindi abbiamo già inviato dei pazienti che sono stati affetti da covid e che si sono ristabiliti ovviamente a fare la donazione di plasma perché poi questo plasma possa essere inviato all'officina di Pisa dove poi verrà diciamo elaborato e trattato per ridurre la possibilità, anzi annullare la possibilità di qualsiasi possibile trasmissione di infezione e poter essere utilizzato nei casi previsti dal protocollo.